Vanni, tu che sei un ottimista e molto serafico, ispiri sempre tranquillità, siamo un po' di ottimismo, ce lo mettiamo, c'è quello che ci siamo detti sin d'ora, comunque c'è una presa di coscienza, comunque c'è un humus che sta cambiando, perché le persone poi, siamo tutti animali, ci autodifendiamo, no? Ci difendiamo quando vediamo che siamo minacciati da qualcosa e la minaccia comunque comincia ad essere percettibile, no? Sì, ma non solo, chiunque ha studiato qualcosa del funzionamento della società in generale, dell'economia stessa, della politica, della società, è tutto basato su un concetto comunque di fiducia, per quanto possa sembrare strano l'economia stessa si basa sulla fiducia che i mercati hanno in un soggetto piuttosto che in un altro. La fiducia è quella che è stata in qualche maniera minata, ormai quasi distrutta, la maggior parte delle persone non ha più neanche la fiducia che possano esistere delle persone che hanno dei valori più elevati, che hanno conservato nel corso della vita, nonostante le mille difficoltà, le mille peripezie, le mille occasioni che uno ha per chiudere un occhio, se non due, per trarne un vantaggio personale. E invece è molto importante che le persone scoprano che questi personaggi esistono e secondo me ce li abbiamo davanti in questo momento, ma lo dico senza paura di essere tacciato di chissà che cosa. Esiste una dimensione, come amo dire molto spesso, di spiritualità dell'essere umano, il che significa una profondità di riflessione che in qualche maniera va anche al di là del cervello stesso e finisce per arrivare nel cuore. Mi dispiace che la maggior parte delle persone si perdano appresso a delle cose che in realtà tutto donano, tranne che la felicità, che temo che gli esseri umani non abbiano ancora compreso che la felicità non la puoi comprare letteralmente, nonostante siano delle frasi fatte che abbiamo sentito più volte nella vita. Ma la felicità è letteralmente nel donarsi, nel donare liberamente se stessi e la ricompensa è quella del servizio che tu vedi nelle persone, è quella nella gioia di un medico che cura una persona che poi viene ad abbracciarti perché in qualche maniera ha avuto un impatto positivo nella sua vita. E queste persone ci sono ancora, ci sono sia quelle che ringraziano, sia quelle che in qualche maniera si sono messe a disposizione degli altri. E nel momento in cui, e sarà tra non molto, la fiducia crollerà del tutto nel sistema politico, probabilmente già lo è da un sacco di tempo. Quando crollerà anche la fiducia nel governo, nelle istituzioni in quanto tali, in tutto ciò che fino a questo momento la gente ha cercato ancora di mantenere in qualche maniera nella propria mente stabile, così da avere dei punti di riferimento, perché il problema è quello, se io perdo anche quello di punto di riferimento di chi mi fido. Iniziate a fidarvi di chi nella vita è riuscito a mantenere un qualcosa che si chiama coerenza. La luce normalmente non è coerente quella che vediamo intorno a noi, la luce coerenta diventa un laser, è come un laser, diciamo, lascia una traccia che diventa di tipo chiaro e indelebile. E bisognerebbe tornare alla gente che avesse la capacità e la comprensione che questa coerenza è quella che li rende liberi e forti. Grazie Vanni anche per queste due considerazioni.